Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere il Regno delle Gemme, questo Grattevinci da 10€ che presenta 4 ricchi bonus da giocare. Come potete vedere la veste grafica è molto accattivante, abbiamo una serie di gemme, rubine, smeraldi e quant'altro, e abbiamo due giochi, uno con 4 bonus nella parte superiore, con premi che vanno dai 25 ai 500€, e sotto abbiamo il classico gioco di Grattevinci dove abbiamo dei numeri vincenti e i nostri numeri. I numeri vincenti sono 5 e abbiamo rispettivamente 16 numeri nostri che possono essere fra i vincenti. Quindi diciamo che questi sono i due giochi principali, andiamo a scoprire insieme come si gioca e quali sono soprattutto le probabilità di vincita, perché a volte non sappiamo quante sono realmente le probabilità di vincita con questi Grattevinci. Allora, la prima cosa da fare chiaramente è scoprire con la monetina cosa c'è sotto le gemme. Questo io l'ho fatto per voi e nella parte superiore, come potete vedere, abbiamo il pentolone, abbiamo il quadrifoglio, il carrello e la luna. In questo caso per poter vincere era necessario trovare una corona, ma non abbiamo trovato questo simbolo. Nella parte sottostante invece abbiamo i numeri vincenti e i nostri numeri. Come potete vedere, in questo caso abbiamo 21 fra i numeri vincenti e 21 fra i nostri numeri. Quindi abbiamo vinto in questo caso 10€, ovvero il prezzo del biglietto, la vincita base, la vincita più piccola. Ricordiamo che il premio massimo può arrivare fino a 2 milioni di euro. Vediamo quali sono le probabilità di vincita in questo gioco. Abbiamo, per quanto riguarda i premi, da 10 fino a 500 euro, la probabilità di vincita è di un biglietto su 3. Quindi una persona su 3 vince qualcosa. I premi invece che vanno da 500 a 10.000 euro hanno una probabilità di una ogni 7707. Quindi circa una su 8.000. Mentre i premi superiori a 10.000 euro hanno una probabilità di vincita una su un milione all'incirca. Quindi adesso sappiamo quali sono le probabilità. Qui possiamo vedere quanti biglietti sono stati stampati. Ovvero sono stati stampati in tutto 20 milioni di biglietti. E su 20 milioni il totale dei biglietti vincenti era 6 milioni e 7. Quindi questo fa esattamente un biglietto su 3 vincente. Come vedete ci sono circa 3 biglietti da 2 milioni di euro. Quindi uno ogni 6 milioni di biglietti. Le probabilità queste le abbiamo appena già dette. Vogliamo ricordare che il gioco è evitato ai minori di 18 anni. Quindi nel momento in cui compirete 18 anni potrete giocare ai gratta e vinci. Se già lo siete potete cominciare a giocare. Ma ricordiamo che il gioco può causare dipendenza patologica. Quindi gioca senza esagerare. Se vuoi altre informazioni puoi andare sul sito del gratta e vinci. E lì puoi trovare tutte le informazioni necessarie. Adesso vediamo un'animazione. Ecco l'animazione. In questo caso si sono vinti 500 euro. Volevo ringraziarvi di aver visto il video. Vi auguro di vincere al gratta e vinci. Nel caso in cui ci sia una vostra vincita. Commentate questo video e magari fateci sapere. Grazie a tutti e vi auguro un buon anno e tante vincite. A presto, ciao! Grazie a tutti.